Buongiorno a tutti, piccola premessa, non vadate a me che sono appena rentrata alla spiaggia quindi sono abbastanza impresentabile, ma non potevo fare a meno di darvi questa ricetta fantastica. E quindi, cubetti di latte di mandorla surgelati, cioè semplicemente mettete il latte di mandorla nel portaghiaccio. Poi, una pesta e una banana. A questo punto, frulliamo tutti insieme. Cubetti, banana e salto. Eccoci qua, ci ho messo una canoccia, un fenicottero rosa fondamentale e ora me lo bevo in giardino. Ciao a tutti, ciao fenicottero rosa. Buonanotte! Buongiorno a tutti.